Bene, il pallone d'oro, il vincitore del settembre è il pallone d'oro del 22 e sono felicissimo di poterlo dire E' il pallone d'oro E va bene, giustizia è fatta E sono felicissimo di poterlo dire Sono felicissimo di poterlo dire Lui per tre, l'anni di prezzi E' un buio pallone d'oro francese, dotato 1998, consegna il pallone d'oro Ha un francese, Karim Benzema Non solo lo riceve dall'ultimo pallone d'oro francese Lo riceve dall'allenatore francese Adesso Kroos aspetta Vinicius E lo lancia in campo aperto Che giocata di Kroos Va Vinicius verso Ter Stegen Vinicius contro il quartiere del Barca E Benzema Apre il classico al dodicesimo minuto Si aspettava solo lui Il ritorno del capitano Il gol del prossimo pallone d'oro 1-0 al Bernabeu Benzema E il bomber è questo Quello che prende la ribattuta L'ha fatto un'azione straordinaria Tony Kroos Perché aveva